E la situazione era molto grave, però mia madre è riuscita a prendere il telefono e a confortarmi del fatto che lei stesse comunque fosse viva. Io ero a casa con i miei amici e tra una pausa o l'altra di un film, io ho letto improvvisamente Alba Parietti, un incidente gravissimo in autostrada, e vedo la macchina di amare al suo puntino. Poi purtroppo nel 2006 c'era Luana. Era un amore fresco appena sbocciato, quel classico amore passionale che viveva un ragazzo di 24 anni, giorno prima del suo compleanno. Ebbe un incidente nella notte tornando dal lavoro. E purtroppo... non ne uscì viva.